Rientra nelle attività di contrasto a gioco e scommesse illegali e di tutela dei consumatori la vasta operazione coordinata dal Nucleo Centrale della Polizia dei Giochi e delle scommesse del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine e svolta in sinergia con il personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sull'intero territorio nazionale, dove sono state controllate più di 600 attività commerciali e identificate oltre 3.000 persone. Nel corso delle ispezioni sono state rinvenute e sequestrate 40 apparecchiature illegali 215 invece le violazioni amministrative accertate e sanzionate per un importo superiore a 600.000 euro 66 persone sono state denunciate in stato di libertà per attività connesse all'esercizio abusivo del gioco e delle scommesse I controlli non hanno rispermiato gli esercizi commerciali siciliani Si colloca in tale ambito la scoperta a Caltanissetta di un laboratorio clandestino per la fabbricazione di armi Al suo interno la squadra mobile e la sezione investigativa del servizio centrale e operativo hanno rinvenuto tutta l'attrezzatura necessaria per la costruzione di cartucce per armi corte una pistola artigianale e munizioni di diverso calibro arrestato il titolare dell'immobile La polizia di stato ha inoltre controllato 18 sale giochi e centri scommesse di Gela e Niscemi ed elevato 4 sanzioni amministrative di cui 2 per organizzazione di scommesse in assenza di concessione, autorizzazione o licenza di polizia una per pubblicità di scommesse abusive e la quarta per aver raccolto scommesse su eventi non inseriti nel palinsesto e la quarta per aver raccolto scommesse su eventi non inseriti nel palinsesto